iniziamo il video così allora prima delle pagelle un commento chiara dimostrazione che quando ai top player tu ce n'è solo uno forse riesce a vincere anche le partite che fai schifo ok quest'anno l'intra comprato un top player e già ti ha fatto vincere al debutto in campionato una partita nonostante la ingolari 60 minuti era un po fuori fase non era in condizione ha preso la palla giusta e la immagazzinata in rete punto potremmo già chiudere qui il video però voglio fare le pagelle andano vici se e mezzo è stato solido ha salvato pure in una situazione risultato ha dato sicurezza nel reparto quando si è fatto male che si è scontrato con destro se non sbaglio è uscito cosa che gli vediamo fare raramente quindi ottimo samir e tornato nei suoi standard quindi se e mezzo fantastico poi scrina 7 allora premetto che la difesa ho già dovuto faticare poco e io l'ho capito solo quando già quando appena ho visto la foto di chi giocava in attacco santander e ho pensato che una persona così deformata in viso non poteva destare preoccupazione alla squadra quindi a parte gli scherzi screener è stato fantastico soprattutto non bisogna sottovalutare l'ingresso di orsolini un'ala destra barra la sinistra che è comunque dove a giocare solo ultimi 20 minuti era fresco quindi poteva dare insidie screener l'ha quasi marcata uomo e non gli ha fatto vedere pallone anzi riuscendo anche in un'occasione nell'uno contro uno ad uscire palla al piede quindi screener 7 poi devrai 6 e mezzo ordinare amministrazione ormai acquisito sicurezza acquisito confidenza con il suo reparto a destra d'ambrosio un bel 7 ha dato supporto nella fase offensiva e sicurezza in fase difensiva ogni tanto mi distrago che rivedo i gol quindi d'ambrosio voto 7 fantastico danilo oggi spero continui così e spero comunque che arrivi in condizione versalico e faccio la differenza da terzino destro sinistra a samoa voto 6 non riesco a dare di più ho notato oltretutto lo stesso vizio lo stesso limite toccandoci che ha condombi che aveva condombia gioca a 180 gradi non riesce mai allargare sulla sinistra non riesce mai a giocare sulla linea di fondo ok il destro lo usa solo per lo usa solo per non so per grattarsi il polpaccio dietro non lo so quindi dovrebbe giocare più in verticale quando è sulla fascia sinistra per aiutare un po perisic nella fase offensiva però comunque tre partite da samoa tre partite solide voto 6 ma può dare molto di più e ho notato se avete notato anche voi ragazzi scrivetelo o se non siete d'accordo scrivetemelo lo stesso ho notato che negli ultimi 20 metri cala di efficacia ok diventa meno determinante nella fase nella zona nevraggio la del campo gioca bene in difesa gioca bene ma quando c'è da quagliare diventa poco offensivo inteso come poco efficace poco letale con assist con movimenti eccetera eccetera brogiovic voto 6 sta arrivando piano piano la condizione ottimale anche per lui solita come dire partita di fraseggio ed interdizione può dare molto di più ma oggi mi è piaciuto comunque quindi se per epic brozo gagliardini 7 e mezzo io sono scusatemi 6 e mezzo io sono uno di quelli che non avrebbe pagato neanche un centesimo ma a fine dell'anno scorso è cresciuto oggi mi è piaciuto quindi 6 e mezzo non lo leva nessuno da equilibrio al centro campo da massa muscolare altezza peso robustezza a centro campo molto meglio di vecino non ha le stesse frequenze di vecino nel senso non è tra virgolette rapido come vecino ma lo vedo molto meglio dell'uruguaggio lo vedo molto più quadrata vedo molto più un centro campo quadrato e con un senso con lui al centro campo fatto sta che per me uno come gagliardini non dovrebbe essere titolare in una squadra come l'inter però in questa inter si fa di necessità virtù quindi va bene gagliardini 6 e mezzo speriamo continui così e continui questo processo di crescita sinistra perisic 6 e mezzo gli avrei dato 6 se non avesse segnato quindi comunque la sufficienza perché oggi ha fatto molto lavoro sporco è tornato molto indietro a difendere ha cercato di attaccare sbagliando la sua mole clamorosa di azioni però oggi ha fatto molto lavoro sporco quindi prestazione da sei suggerata con il gol sei e mezzo adesso che sta facendo vedere minchia mi tocco le palle il milan contro il liverpool ok perisic 6 e mezzo politano 7 e mezzo messo asis per nengolan migliore in campo a mio parere non lo vedo fare mai una neanche una partita una giocata banale sempre giocate dedicate all'efficacia sempre giocate per scombustolare i piani delle difese avversari e questo è merito di spalletti che nonostante le prime due partite dove comunque ha giochicchiato bene ma poteva essere uno di quelli imputabili per le sconfitte e la mancata questa proliferazione dei gol l'ha continuato a esibire in campo quindi un cui dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare o a Luciano quel che è di Luciano quindi politano 7 e mezzo merito di spalletti che ha insistito su di lui quindi io non sono un detrattore di spalletti non sono una persona a cui piace a cui piace criticare a prescindere per antipatia e simpatia merito di spalletti questo 7 e mezzo di politano che ha voglio dargli un 5 e mezzo un 5 e mezzo che mi è piaciuto nel senso può dare molto di più se è mangiato un gol clamoroso così grande però un piccolo difetto a volte sembra che voglia entrare nella porta in porta con il pallone deve essere più fraseggiante con gli altri deve passare deve prediligere un po il fraseggio a volte è un po troppo innamorato del pallone non mi è dispiaciuto perché non ha non ha dimostrato di non avere paura delle situazioni soprattutto in situazioni di 0 a 0 non aver paura di sbagliare però a volte deve un po dialogare più con i compagni ma mi è piaciuto però è da 5 e mezzo non gli posso dargli più Rajen Angolan prestazione fino a poco prima da 5 fuori fase fuori forma top player ragazzi alza la palla tira gol stop quindi 6 e mezzo per Rajen Angolan migliore in campo politano man of the match il ninja classica dimostrazione che se compri i giocatori che fanno la differenza ragazzi come due anni fa mancini voleva Iaia Touré a 97 anni comunque è molto meglio dei grandi bidoni che vuoi comprare in prospettiva ok ho delle occasioni no i grandi giocatori rimangono grandi giocatori diceva Giuseppe Altafini giocare a calcio è come andare in bicicletta una volta che impari non te ne scordi quindi ottimo Raja non abusarlo adesso nel farlo giocare di continuo per fortuna che c'è la sosta quindi si può riposare e si può riproporre subito ragazzi chi è entrato? Candreva non voglio fare il saccente ma chi è che diceva che bisognava far giocare e dare una chance a Candreva? Chi? Non ho sentito Ah io! Poi vabbè è entrato Niccolò Fabi non ha potuto dare niente alla squadra quindi chi ha cambiato la partita sono questi Vesino non lo voglio giudicare quando inizierò a fare 7 partite consecutive positive rinizierò a giudicare quindi Mister Spalletti voto 7 si è dovuto rinventare la squadra ha avuto ragione lui oggi nonostante se non ci fosse stata qualche defezione importante si sarebbe presentato con Dalbert Enrique stendiamo un velo pietoso quindi Spalletti voto 7 avanti Inter avanti Curva Nord oltretutto il gol di Nengolan arrivato 30 secondi dopo un vincere clamoroso dalla curva quando andrete a rivedere la partita fateci caso ascoltate curva stava esplodendo pam gol di Nengolan forza Inter iscrivetevi al canale non fate gli infami e cornuti iscrivetevi iscrivetevi ok? forza Inter ci risentiamo per Inter Parma dovrei stare allo stadio quindi ci colleghiamo dallo stadio forza Inter ciao ragazzi